Buongiorno a tutti, sono Francesca Fossatelli, la fondatrice di Free Finance e vi do il benvenuto a questo primo webinar dedicato proprio al primo appuntamento del nuovo corso, il corso base sui certificati di investimento, in particolare ci focalizzeremo sulla parte degli investment certificates e ovviamente è importante conoscere questi strumenti per diverse ragioni, abbiamo fatto proprio il primo corso dedicato alle basi della finanza, quindi a tutte quelle cose che ci servono poi per capire effettivamente come iniziare ad investire e in questo caso approfondiamo proprio un asset class che è quella dei certificates, dei certificati. Con Alessandro abbiamo fatto tantissimi webinar anche in passato proprio dei certificati, ma in questo caso abbiamo pensato un corso per chi parte diciamo da zero, quindi per chi ha acquisito le basi di finanza magari anche attraverso il corso base e vuole iniziare a capire come investire ed operare sui certificati. Quindi l'idea è quella di non avere diciamo magari anche conoscenze pregresse o comunque avere delle conoscenze pregresse, ma cercare di approfondire tutti quegli aspetti che in tanti diciamo webinar, in tante private room, anche all'interno dei gruppi social, all'interno delle nostre mail abbiamo visto tante domande che poi ci fanno capire che effettivamente il mondo dei certificati non è così facile da comprendere e da assimilare. E per questo abbiamo deciso di lanciare questo nuovo corso. Ovviamente mi accompagna in questo bellissimo percorso Alessandro Pavan che saluto. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, ciao Francesca. Grazie, benvenuti a tutti. E appunto come dicevi siamo partiti nel corso base con un po' l'introduzione su tutte le diverse asset class per poi focalizzarci oggi e nei prossimi appuntamenti esclusivamente sui certificati. Come dicevi è un mondo talmente ampio che ha così tante variabili sia per tipologie di prodotti che per sottostanti che come vedremo poi per emittente e così via che c'era la necessità probabilmente di approfondire anche quelle cose che a volte si danno scontate perché magari quando analizzo il certificato guarda semplicemente sottostanti, barriera, cedola e non analizzo tutto il resto. Lo scopo del corso appunto è quello di amplificare un po' lo sguardo e andare a cogliere quegli aspetti che tante volte vengono magari considerati meno nell'analisi di un prodotto. Assolutamente. Una cosa, vedevo che qualcuno ci ha scritto video audio ok, qualcuno ci ha scritto non si sente quindi se per favore magari ci date un feedback che ci sentite bene ci fate un favore. Perfetto. Partiamo diciamo con proprio le informazioni chiave. Effettivamente il corso diciamo si svilupperà con diversi appuntamenti, non abbiamo diciamo ancora previsto la fine degli appuntamenti proprio perché prevediamo che ci saranno poi tante domande anche nei prossimi webinar e quindi magari dedicheremo anche degli approfondimenti ad alcuni aspetti che potrebbero sembrare un po' più complessi e magari li andiamo a approfondire proprio diciamo in maniera un po' più semplicistica per farli capire poi a tutti coloro che ci seguono. Come sempre il corso è completamente gratuito, è possibile iscriversi su freefinance.biz. Inoltre ovviamente quindi tramite go to webinar, inoltre all'interno della piattaforma go to webinar trovate già le slide nella sezione documenti, quindi le slide che poi stiamo vedendo ora sono già disponibili nella sezione go to webinar. webinar saranno poi disponibili sia sul nostro sito freefinance.biz ma anche ovviamente la registrazione e così come il link alle slide sarà disponibile sul canale YouTube di Free Finance. Quindi se vi perdete qualche appuntamento sappiate appunto che lo potete rivedere quando volete. Ovviamente come abbiamo detto il corso di formazione è pensato per tutti gli investitori che hanno almeno un'infarinatura base sui concetti della finanza. Quindi se non sapete diciamo che cos'è un'azione effettivamente dovete prima andarvi a vedere il corso base sulla finanza e poi ripartire diciamo dal corso sui certificati. Quindi se vi manca qualche base che vedete durante diciamo questo corso non avete magari approfondito anche in passato trovate il corso base sulla finanza. È stato registrato, è stato caricato tutto su YouTube quindi potete rivederlo quando volete. Perché approfondiamo i certificati e perché approfondiamo in particolare i certificati di investimento? Sui certificati a leva abbiamo fatto proprio un approfondimento in particolare sui turbo certificate. Abbiamo fatto un crash course con diciamo un'oretta e mezzo capite come funzionano i turbo certificate che sono appunto certificati a leva. Ma ci concentriamo sulla parte dei certificati di investimento proprio perché dovranno costituire la maggior parte del nostro portafoglio in certificati. E probabilmente magari anche tutta diciamo la parte del nostro portafoglio in certificati. Quindi saranno quelli un po' più importanti da capire, comprendere e soprattutto gestire. In particolare è importante soprattutto capire i certificati per tutti coloro che investono magari in obbligazioni o azioni. Perché se siete già abituati ad investire in azioni ed obbligazioni vi troverete molto bene con i certificates. Quindi basterà proprio appunto questo corso base per poi comprendere diciamo immediatamente il funzionamento e poi poter investire direttamente. Il corso parte da zero quindi non diamo niente per scontato. Ovviamente avendo noi delle conoscenze pregresse nel momento in cui abbiamo strutturato il corso magari potremmo aver dato qualcosa per scontato. Quindi se fosse così avete il box domande e in qualsiasi caso qualsiasi domanda è come sempre diciamo ben accetta. Non ci sono domande stupide. Le domande sono tutte intelligenti anche perché siamo qui per imparare. Se ti interrompo un momento, se voglio tornare nella slide precedente. Volevo fare un attimo un brevissimo collegamento con la situazione macroeconomica in cui ci troviamo oggi. Appunto del perché oggi certificate sono uno strumento attuale. Se pensiamo agli anni scorsi, quindi anni in cui i mercati azionali tendenzialmente crescevano. E dall'altra parte i mercati obbligazionari davano rendimenti pari praticamente a zero o addirittura negativi. I certificati venivano visti come un buon strumento da sostituire un po' la parte obbligazionaria. Quindi tendenzialmente il risparmiatore italiano è abituato storicamente ad avere l'investimento in obbligazioni, in bondi, in titoli di Stato che eroga delle cedole. Diciamo che il certificato poteva sostituirsi nel portafoglio come quello strumento in grado di darmi una remunerazione periodica nel tempo. Io comprovo il certificato, invece che avere il BTP che rendeva praticamente niente, avevo un certificato che mi dà ovviamente con un rischio un po' più alto, però un flusso cedolare costante nel tempo. Oggi ci troviamo in una situazione un po' diversa perché le obbligazioni iniziano a rendere. E quindi se non ricordo male il numero, circa 18 mila miliardi di obbligazioni sono passate da rendimento negativo a rendimento positivo negli ultimi mesi. Quindi il treasury americano, che è il titolo decennale americano, quindi diciamo che è il bond di riferimento, gli Stati Uniti probabilmente sono il paese più sicuro del mondo in cui investire, è un po' il benchmark, oggi rende tra il 2,4, 2,5 e 2,6 in base poi all'andamento delle varie giornate. È un rendimento che qualche anno fa sarebbe stato molto interessante. Quindi se ci fossimo trovati nel 2019 ad esempio con un treasury che rendeva il 2,5, ci sarebbe stato un grosso flusso di denaro su quella tipologia di titoli, perché il 2,5 su un titolo praticamente privo di rischio, quasi, era un rendimento molto interessante. Oggi però, con il contesto attuale e soprattutto il contesto in cui l'inflazione è al 7,5% negli Stati Uniti, e 7,9% probabilmente sarà all'8,5% previsto questa settimana, capite che se il mio bond mi rende il 2,5% e ho l'inflazione all'8,5% io sto comunque perdendo 6%. Quindi ci troviamo in una situazione in cui le obbligazioni rendono, ma hanno un rendimento comunque reale, negativo, perché il mio rendimento è comunque più che eroso dall'inflazione e quindi dalla perdita di potere d'acquisto. E quindi cosa c'entrano qui i certificati? Ovviamente i certificati, con un rischio un po' più alto rispetto ad un'obbligazione, mi permettono però un flusso cedolare un po' più importante, quindi se il mio certificato mi stacca un flusso del 10%, in un contesto inflattivo all'8,8,5% vado comunque a superare il potere d'acquisto. Tutto questo ragionamento va chiaramente inserito nel portafoglio, con il giusto grado di rischio, con la giusta esposizione, quindi con tutte poi le dinamiche che prevede l'asset allocation. Però questo è il motivo per cui oggi, nonostante le obbligazioni comunque abbiano rendimenti positivi, investire in certificati è ancora il suo motivo. Assolutamente, e poi magari anche per chi vuole investire in azioni, e comunque magari per chi nell'ultimo periodo ha investito in azioni, si è reso conto anche della volatilità dei prezzi azionari. Quindi effettivamente oggi investire in azioni, diciamo, col cosiddetto margine di sicurezza, diventa molto più difficile rispetto a prima. E quindi magari effettivamente anche quelle azioni che sembravano aver toccato il fondo, toccano dei nuovi fondi e continuano a riscendere, a riscendere, a riscendere, quindi magari il certificato, diciamo, anche se sicuramente con il certificato andiamo temporaneamente a perdere, abbiamo la scadenza, i premi, quindi abbiamo una serie di caratteristiche che ci vanno ad aiutare a recuperare fin da subito l'eventuale perdita dell'azione e allo stesso tempo magari ci danno anche ulteriore rendimento, specialmente per le strutture quelle ad alta volatilità. Quindi l'idea è proprio, oggi partiamo con i certificati, perché effettivamente i certificati sono un'alternativa interessante sia alle azioni che alle obbligazioni, ma soprattutto si prestano un po' al momento storico di alta volatilità. Nel corso, diciamo, ci siamo dati diversi obiettivi, ovviamente il primo obiettivo è quello di rendervi autonomi, quindi cercare di vedere quanti più concetti possibili in modo tale che nel momento in cui padroneggerete questi concetti sarete in grado poi di capire anche tutte le novità che in futuro ci saranno sui certificati. Quindi l'idea è quella di darvi tutte le informazioni possibili e immaginabili sui certificati, ovviamente questo è un corso base, ci sarà poi nella seconda parte dell'anno il corso avanzato che sarà concentrato soprattutto sul pricing e sulla gestione di portafoglio. Quindi in quel caso quella sarà la parte per chi magari ha già, diciamo, seguito il corso base, ha approfondito i temi, magari ha negoziato i primi certificati e poi vuole approfondire ancora di più il pricing e la gestione di portafoglio. Partiamo da che cos'è un certificato, perché fondamentalmente questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare, che cosa sono i certificati? I certificati sono strumenti finanziari, quindi fondamentalmente sono strumenti che ci permettono di investire. Sono derivati, l'abbiamo detto nel corso base che cosa sono i derivati, abbiamo proprio approfondito un particolare tipo di derivati, le opzioni, quindi sono degli strumenti che vanno a derivare il loro prezzo dal prezzo di un altro strumento finanziario che è detto sottostante. Quindi il nostro certificato seguirà in qualche modo, quindi dipenderà in qualche modo da quello che succede a un qualcos'altro, per esempio a un'azione. Quindi un certificato di investimento costruito su Fiat dipenderà dall'andamento dell'azione Fiat, quindi dipenderà per esempio dal prezzo dell'azione Fiat, dipenderà dai dividendi dell'azione Fiat, dalla volatilità dell'azione Fiat, quindi da tutte le caratteristiche del sottostante su cui è costruito. Sono derivati cartolarizzati, perché appunto diciamo sono fondamentalmente con un unico ISIN, quindi con un unico titolo, noi riusciamo a comprare un certificato, che in realtà è una combinazione di opzioni. Quindi così come compriamo un'azione, possiamo comprare una combinazione di opzioni che è in effetti un certificato. Adesso vediamo proprio esattamente che cosa significa combinazione di opzioni. Sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, negoziati su mercati regolamentati o MTF. Che cosa significa? Che effettivamente noi non è che possiamo andare a comprare, diciamo, per esempio certificati al supermercato, li andiamo a comprare su un mercato di negoziazione. Quindi li andiamo a comprare su un mercato regolamentato o un MTF, che quindi è quello che è un po' l'idea dell'ex mercato regolamentato, e quindi i nostri certificati non saranno, diciamo, tra virgolette carta straccia, saranno soggetti a una serie di regole. Quindi non stiamo andando a comprare un qualcosa su un mercato non regolamentato, quindi dove le regole le fanno le case prodotto, dove lo fa il broker di turno. Ovviamente stiamo andando a comprare un qualcosa che è negoziato su un mercato regolamentato, che quindi ha tutti i sacri crismi a livello legale, che ci permettono di avere una tutela come risparmiatore. Quindi quando andiamo a comprare certificati, andiamo fondamentalmente a comprare uno strumento dove non è possibile che succeda qualcosa di strano che non è previsto dalla documentazione. Fondamentalmente questa è un po' l'idea. In documentazione noi quello che faremo, come vedremo tra poco, stiamo praticamente facendo un contratto. Quindi che cosa è un certificato? Il certificato è uno strumento finanziario derivato cartolarizzato, negoziato su un mercato regolamentato, un MTF, che ci va a fare, va a permettere di investire, permette diciamo all'investitore di investire o in una strategia composta da opzioni, quindi un insieme di opzioni, oppure in un'altra strategia. In quel caso è un certificato della tipologia tracker, cioè che replica uno a uno una strategia, come abbiamo visto per esempio gli ETF, quindi una replica lineare di un qualcosa. Quindi nella maggior parte dei casi, diciamo 99% dei certificati sono opzioni, quindi sono opzioni combinate tra loro, ma c'è una piccola percentuale di certificati tracker appunto che non sono opzioni, quindi sono semplicemente una replica passiva di una strategia. Come abbiamo detto, il certificato quindi nella maggior parte dei casi, quindi 99% dei casi, è una combinazione di opzioni. Quali opzioni? Perché effettivamente noi abbiamo visto nel corso base che le opzioni possono essere negoziate, sono negoziabili da un qualsiasi cliente retail. Quelle opzioni che noi abbiamo visto, quindi le classiche con le put, sono le opzioni plain vanilla, quindi quelle semplici, quindi facili da capire, facili da comprendere, negoziabili anche da noi investitori retail. Nel caso invece delle opzioni complesse, esotiche, vengono dette diciamo in contrapposizione alle plain vanilla, questa tipologia di opzioni non sono negoziabili da noi retail. Quindi tutto quello che è un'opzione un po' diversa dalla classica con le put, non è negoziabile. E quindi fondamentalmente, se noi andiamo a comprare un certificato, andiamo ad avere accesso a un qualcosa a cui non avremmo accesso altrimenti. Perché mentre magari un investitore istituzionale ha accesso alle opzioni esotiche, noi come investitore retail non abbiamo accesso alle opzioni esotiche. E questo risponde a una domanda che mi fate sempre. Ma allora io non mi posso costruire un certificato da sola? Cioè se io so già quali sono le opzioni, quindi come costruire il certificato, posso costruirmi un certificato da solo? Teoricamente sì, in pratica no, perché non mi posso comprare le opzioni esotiche che poi sono la maggior parte della struttura del certificato. Ma partiamo da zero. Noi dobbiamo pensare alle opzioni come se fossero gli ingredienti di una ricetta. Quindi fondamentalmente sono i diversi ingredienti, quindi le uova, la farina, l'acqua, che noi andiamo a mettere insieme per creare il nostro piatto. Quindi diciamo proprio gli ingredienti della ricetta. Ovviamente combinando i diversi ingredienti potremmo magari mettere un po' troppa farina, un po' troppa acqua, un po' troppo poco, o troppo troppe poche uova, oppure metto solo farina e acqua e faccio il pane. Se metto le uova in più, magari mi vado a fare il pancake, no? Quindi questa è un po' l'idea. Quindi man mano che io vario gli ingredienti, quindi le opzioni, il mio piatto, quindi il mio certificato, sarà diverso. Ovviamente questo vi farà sorgere una domanda, magari a me piace più il pane dei pancake, no? O più i pancake del pane. Quindi io magari, a me piacciono più ingredienti rispetto, alcuni ingredienti rispetto a degli altri. Che cosa significa? Che effettivamente potremmo avere dei gusti diversi. Quindi anche ad andare a combinare questi ingredienti e quindi arrivare a diversi piatti, poi alla fine il cliente finale, quindi diciamo il mangiatore del piatto, potrebbe avere dei gusti diversi. Gusti diversi significa che effettivamente noi abbiamo degli obiettivi finanziari diversi, potremmo avere una propensione al rischio diversa, un orizzonte temporale diverso, un portafoglio di partenza diverso. Questo significa che in realtà ognuno di noi avrà delle preferenze sui certificati. Perché? Perché effettivamente esistono tantissimi certificati diversi e tantissime combinazioni delle, diciamo, degli stessi ingredienti fondamentalmente. Quindi a seconda di, se mettiamo magari 10 grammi di farina di più o di meno, cambierà poi il nostro piatto. E la stessa cosa avviene per i certificati. Quindi a seconda di come magari è posizionata una barriera, di come, quindi diciamo la nostra farina, diciamo i nostri 10 grammi di farina in più o in meno, o a seconda per esempio del premio che viene pagato, che è il risultato diciamo del piatto, quindi in questo caso noi potremmo avere delle preferenze più verso un prodotto o verso un altro. E queste preferenze saranno date proprio da tutta quella che è la nostra esigenza, quindi l'obiettivo finanziario, la prevenzione al rischio, il nostro orizzonte temporale, il nostro portafoglio di partenza. Questo che significa? Che effettivamente non c'è un certificato che va bene per tutti. Quindi non troveremo mai nella storia un certificato che mette d'accordo tutti i portafogli. Perché? Perché è praticamente impossibile, perché poi effettivamente ognuno di noi avrà diciamo la sua combinazione di ingredienti e il suo piatto preferito che sarà diverso probabilmente da tutti gli altri. Quindi, dato che non esiste il certificato che va bene a tutti, e quindi questo vi fa capire anche che in generale il portafoglio in certificati è una cosa abbastanza personale. Perché? Perché dipende ovviamente dalla view che noi abbiamo sui diversi sottostanti, dalla nostra propensione al rischio, dal nostro capitale. Quindi effettivamente ognuno di noi deve essere bravo a combinare gli ingredienti per creare, diciamo, il suo portafoglio in certificati e che risponda un po' alle proprie esigenze, quindi ai propri gusti. E proprio per questo è importante, diciamo, conoscere il funzionamento dei certificati, perché altrimenti non sappiamo, diciamo, che cosa cercare, ecco, fondamentalmente. Ma la domanda... Per rispondere a una domanda che secondo me la smarcherei prima di andare avanti. Guantiro ci dice, quindi il rischio dei certificati, semplificando l'idea, può essere una via di mezzo tra rischio azionario e rischio obbligazionario. Ecco, considera che io il sta a metà tra l'azione e l'obbligazione è come solitamente spiego un certificato tipo a mia madre che non sa cos'è. Io lo dico sempre così, cioè io ho un certificato che mi permette di, come un'obbligazione, avere il rischio emittente, quindi di chi costruisce il certificato, e di prendere delle cedole periodiche. Quindi io so che compro a 100, rimborsa a 100, non ho tendenzialmente guadagno sul capitale, a meno che non lo compro ovviamente sotto la pari, però semplificando il concetto, compro a 100, a scadenza mi rimborsa a 100, nel frattempo cos'è che incasso? Le cedole periodiche, come un'obbligazione. Dall'altra parte, come un'azione però, il prezzo del certificato si muove in base a come si muovono i sottostanti, quindi se l'azione cresce, anche il prezzo del certificato tenderà a crescere, se l'azione scende, o qualsiasi altro sottostante scende, il prezzo del certificato tenderà a scendere. Però con un limite, perché io ho rischio azionario, tendenzialmente dalla barriera in giù, perché fino alla barriera di protezione, anche la scadenza del mio capitale è comunque protetto. Quindi io sì, ho il rischio che ha un'azione, però diciamo che se la mia barriera è posta al 40%, fino al 39%, io è come se non avesse il rischio azionario. Ce l'ho da lì in giù, perché da lì allora perderò tanto quanto perde l'azione. Però ho appunto, come l'obbligazione ho il rischio emittente, come l'azione ho il rischio dell'andamento, ripeto, al di sotto di un certo livello. Fino a quel livello lì ho un po' di protezione in giù. Direi perfetto. Quindi è proprio esattamente tra il rischio obbligazionario e l'azionario. Diciamo, ha individuato proprio un modo facile per comprendere anche il livello di rischio medio dei certificati. Poi ovviamente dipende sempre dal caso specifico, però in media è assolutamente corretto. E riprendo anche un'altra domanda di Michele, che dice quanto destinare al livello percentuale su un portafoglio, diciamo proprio la parte dedicata ai certificati. Quindi io direi che dipende proprio da una serie di fattori, quindi dipende ovviamente da quanto uno è bravo a gestire magari i certificati, quanto è appassionato, se vogliamo, di certificati, ma anche e soprattutto dal livello di portafoglio. Quindi quanto è grande il suo portafoglio. Perché ovviamente più è grande il portafoglio, più magari, e quindi magari se c'è una grossa parte in obbligazionario, invece di mettere la parte in azionario, si può usare il certificato. Oppure se c'è una parte azionaria e si vuole aggiungere una parte in certificato, secondo me potrebbe aiutare per ottimizzare la parte obbligazionaria che magari rende un po' meno. Quindi in genere si suggerisce 15% circa, no Alessandro? Questo è un po' quello che direbbe un consulente. Diciamo che a mio avviso, poi ripeto, c'è chi ha 0, c'è chi ha 100, c'è chi ha 80, non c'è giusto o sbagliato, ognuno poi il suo portafoglio lo bilancia come meglio crede. Secondo me una percentuale che sia compresa tra il 10 e il 20, il 30% in particolare in situazioni di mercato può essere una quota corretta. Anche perché poi ovviamente più un portafoglio diversificato, ma non solamente in Europa, America o in azionario e obbligazionario, perché poi gli asset class sul mercato sono tantissime, perché ho i certificati, ho le azioni, ho le obbligazioni, ho gli ETF, ho gli asset reali, ho l'immobiliare, ho tantissime soluzioni in cui potete investire come abbiamo visto ad esempio nell'ultima giornata del corso base, ci sono tantissimi anche investimenti alternativi, abbiamo parlato delle cripto, abbiamo parlato del crowdfunding, quindi un portafoglio a mio avviso deve essere il più diversificato possibile, di consulenza se io voglio dedicare il 70% del portafoglio a solo i certificati, mi resta poco spazio per tutto il resto, quindi a mio avviso quella può essere la percentuale corretta. Assolutamente, poi ovviamente magari dice Michele ovviamente al vino, quindi ti fa anche quest'assist, ovviamente diciamo secondo me una cosa interessante è appunto quella di convertire la parte azionaria in certificati, perché effettivamente si va magari ad abbassare un pochino il rendimento della parte azionaria, ma si va a guadagnare tantissimo a livello proprio di risk management, ma anche di volatilità del portafoglio, quindi secondo me quella è proprio una cosa che potrebbe essere veramente utile magari per chi è un investitore diciamo che predilige un po' di più la parte azionaria, specialmente chi è nella fase iniziale diciamo del suo percorso da investitore che mette un po' più rischio, quindi può aver senso diciamo amplificare magari la parte in certificati. Perché esistono i certificati? Innanzitutto i certificati sono nati negli anni 90 in Germania, che tra l'altro diciamo Germania in primis e poi Svizzera, poi Italia e poi tutto il resto dei mercati sono i mercati dei certificati più sviluppati, quindi per chi non lo sapesse effettivamente il mercato più sviluppato è il mercato tedesco, sono arrivati negli anni 2000 in Italia, quindi in realtà diciamo è un mercato giovane, no? Se vogliamo. Ma la cosa interessante è che effettivamente i certificati sono nati per rispondere a un'esigenza di mercato, perché prima che ci fossero i certificati solo gli investitori istituzionali potevano effettivamente crearsi appunto scambiando OTC, quindi over the counter, quindi diciamo non su un mercato regolamentato, ma appunto tra loro, delle opzioni esotiche che andavano a combinare creando essi stessi fondamentalmente la strategia del certificato che oggi noi acquistiamo con un semplice click. Quindi fondamentalmente prima che cosa c'era? Non c'era niente e quindi gli investitori istituzionali si creavano queste strutture da soli. Ovviamente le banche di investimento hanno visto che c'era una richiesta per questa tipologia di strutture tra investitori professionisti e hanno deciso di renderlo poi disponibile anche a tutti gli investitori, fai da te, quindi all'investitore retail, vendendogli appunto la strategia preconfezionata, quindi senza vendergli le opzioni esotiche a pacchetti che ovviamente sono un po' più difficili e complesse da maneggiare per un investitore retail, ma vendendogli direttamente tutto il pacchetto. Ovviamente come tutte le asset class abbiamo dei rischi e delle opportunità dei certificati. In particolare i rischi, il primo rischio dei certificati è il rischio di mercato, perché andiamo ad acquistare un certificato legato a un sottostante, quel sottostante dipenderà dalle sue variabili di mercato, quindi il certificato cash collect ad esempio su Fiat, un certificato di investimento su Fiat, se Fiat magari un certificato long, quindi che ha una direzionalità positiva, se Fiat scende, tendenzialmente il certificato andrà a scendermi, non come Fiat, ma un po' meno di Fiat, ma comunque scenderà. Quindi effettivamente se il mercato, il sottostante, si muove nella direzione opposta a quella del certificato, effettivamente abbiamo un rischio, ossia il rischio che il nostro investimento tenda a scendere. Dall'altro lato possiamo avere... Con questo rispondo anche a Michele che ci chiedeva, quindi dov'è la più come un'obbligazione o più come un'azione? In realtà non è nessuno di due, ma se devo associarlo più a qualcosa, lo associo all'investimento azionario, perché se il sottostante si muove, ovviamente il certificato si muove di prezzo. Se io compro un'obbligazione su Fiat, Stellantis in questo caso, ovviamente un'obbligazione, se Fiat domani perde in borsa il 10%, non è che uno si immagina che Fiat fallisce e quindi l'obbligazione perde di prezzo. Tendenzialmente l'obbligazione si muove per altre variabili, ma bene o male su questo tipo di società, su questo tipo di obbligazione, rimane più o meno costante. Dall'altra parte invece se l'azione Fiat perde il 10%, il certificato mi perde, non il 10% ma magari il 5, il 6, il 7%, dipende anche dal livello poi del prezzo. Quindi se devo sostituirlo in una set class all'interno del portafoglio, la associo più alla parte azionaria, che è quella obbligazionaria. Poi il mio concetto all'inizio era ho le obbligazioni che non mi rendono più quello che deve rendermi nel portafoglio, se ci metto i certificati magari ho una relazione più elevata. Questo non significa, elimino la componente obbligazionaria e la sostituisco in toto con i certificati. Però mi permettono di fare un po' il giusto trade-off tra le due diverse asset classi. Assolutamente. Ovviamente poi come dice Massimo, c'è il caso limite, quello di Wirecard, l'azione mi si azzera. Allora a quel punto se avevo investito in Wirecard o nel certificato, poco è cambiato perché effettivamente sono andato più o meno a zero anche sul certificato. Oltre al rischio di mercato, che è il rischio principale, io continuo a fare l'esempio con Fiat perché mi rimane da una decina di anni fa, quindi a me non viene l'esempio con Stellantis ormai, quindi mi scuso con chi segue. Nonostante siamo nel 2021, a me rimane l'esempio di Fiat. Facciamo intesa, almeno è più facile. Oltre al rischio di mercato, c'è anche il rischio valuta. Quindi effettivamente non tutti i sottostanti potrebbero essere denominati in euro, magari sono denominati in dollari. In alcuni casi il rischio cambio è azzerato dall'emittente, cioè l'emittente compra la copertura per noi e ci va a coprire lui stesso, è il caso dei certificati della tipologia quanto. Se non fossero certificati quanto, effettivamente anche il tasso di cambio può influire sul prezzo del nostro certificato e quindi rappresenta un rischio. Inoltre potremmo avere dei certificati che sono denominati in dollari anche se il sottostante è in euro. Per esempio certificati a capitale protetto che hanno la protezione in dollari, si acquistano in dollari, quindi in questo caso abbiamo un rischio valuta ancora diverso rispetto a quello in cui il sottostante diciamo è denominato in valuta diversa dal certificato. Anche qui possiamo avere anche due o tre livelli di rischi valuta, per esempio sui tracker certificate, quindi quei certificati benchmark che magari mi replicano, faccio un esempio, un certificato benchmark, quindi tracker che replica linearmente un sottostante denominato in euro su un sottostante che è un indice denominato in dollari il cui sottostante dell'indice è denominato per esempio in yen. Quindi in questo caso ho due livelli diciamo di rischio valuta. Queste sono tutte cose da considerare poi nel caso specifico, però il rischio valuta che tendenzialmente non c'è quasi mai sui certificati di investimento diciamo può esserci magari su i certificati del capitale protetto, i tracker, quindi quelli vanno controllati un po' meglio rispetto ai classici cash collect che magari diciamo nella maggior parte dei casi sono della tipologia quanto e quindi non hanno il rischio valuta. Il rischio emittente lo vediamo proprio nello specifico tra poco perché come tutte le obbligazioni se l'emittente fallisce, in particolare nel caso dei certificati di garante, l'investitore è un creditore chirografario quindi è come se avesse acquistato un'obbligazione senior unsecured quindi senza garanzia. Quindi effettivamente diciamo nella storia quando diciamo falliscono magari le grosse banche e poi effettivamente magari dopo 7-8 anni si riprende il capitale, però per quei 7-8 anni non lo rivediamo il capitale quindi sempre considerare che effettivamente l'emittente in particolare il garante è un fattore di cui si sottostima il rischio ma che comunque porta rischio e il rischio c'è. Un rischio secondo me è importantissimo, quindi i tre rischi che trovate poi in tutta la documentazione sono di mercato, valuta e di emittente. In realtà un quarto rischio che io inserisco perché secondo me è uno dei rischi diciamo preponderanti dopo il rischio di mercato è il rischio market maker o liquidità perché tutti i certificati hanno il cosiddetto market maker o specialista o liquidity provider. Diciamo sono lo stesso termine che fondamentalmente sono leggermente diversi a livello legale però fanno la stessa cosa. Che cosa fanno? Danno liquidità al prodotto. Quindi il market maker chi è in genere? è una banca emittente quindi un team della banca emittente che va a dare liquidità quindi sia in acquisto che in vendita. Che cosa fa in poche parole? Mette dei pezzi in acquisto e dei pezzi in vendita. Quindi quando noi andiamo a negoziare compriamo e rivendiamo generalmente da lui. Questo è quello che succede sulla maggior parte dei certificati. Poi ci sono dei certificati più scambiati dove effettivamente la liquidità è data anche magari da investitori privati in un particolare momento della vita del certificato. quindi in quel caso magari riusciamo a negoziare anche all'interno dello spread con degli investitori privati o magari riusciamo a comprare un qualcosa che non ci vende l'emittente quindi che non ci vende il market maker però qual è il problema? È che effettivamente su alcuni certificati i market maker non sono così presenti quindi magari hanno degli spread quindi il differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita molto ampio magari non ci sono sul mercato dei giorni che non si presentano oppure soprattutto quando c'è un forte shock di mercato quindi un'alta volatilità un forte ribasso e magari in ottica di gestione del rischio vogliamo vendere la posizione il market maker non si presenta quindi il rischio market maker o il rischio liquidità è un qualcosa che dobbiamo tenere presente specialmente se non vogliamo tenere il prodotto fino a scadenza quindi se oggi abbiamo una view e diciamo fondamentalmente compro un capitale protetto e lo rivedo tra dieci anni benissimo possiamo diciamo ignorare il rischio market maker ma se effettivamente magari pensiamo che potremmo anche volerlo vendere prima della scadenza il market maker è importante a fronte di questi rischi ci sono ovviamente delle opportunità perché? perché i certificati ci danno accesso a delle strategie che non potremmo costruire da soli perché come abbiamo detto il certificato fai da te tranne in alcuni casi quindi per esempio un bonus cap che lo potremmo effettivamente costruire quasi da soli effettivamente la maggior parte dei certificati non li potremmo costruire da soli quindi ci danno accesso a un qualcosa a cui non avremmo accesso altrimenti inoltre ci danno accesso a queste strategie negoziando un unico ISIN quindi magari per esempio su una cosa facile da capire è i tracker che sono appunto dei certificati che replicano linearmente un portafoglio ci danno accesso a un portafoglio di investimento senza dover comprare le singole componenti quindi se per esempio voglio investire in un portafoglio diversificato di legato ad un certo tema per esempio l'acqua mi vado a comprare un tracker certificate che ha delle azioni tutte legate all'acqua e spendo 100 euro comprando un singolo certificato invece di dover spendere magari migliaia di euro per comprare le stesse azioni che magari costano di più inoltre il connubio rischio rendimento può essere molto più interessante rispetto ad asset class alternative è quello che diceva prima Alessandro cioè oggi magari il rischio rendimento di un certificato il connubio rischio rendimento quindi sempre vedere il rendimento diciamo pesato per il rischio può essere più interessante magari rispetto a un'obbligazione o magari rispetto all'azione stessa e inoltre c'è la cosiddetta efficienza fiscale perché effettivamente permettono il recupero delle minus uno dei vantaggi anche uno dei motivi per cui storicamente poi in Italia questo però è una cosa tutta italiana perché questa regola diciamo a livello di tassazione favorevole quindi per il recupero delle minus sui certificati c'è solo esclusivamente in Italia quindi nei mercati in cui effettivamente vengono trattati di più certificati come il mercato tedesco non c'è il vantaggio fiscale quindi è indipendente da questo però in Italia il vantaggio fiscale comunque ha dato un boost allo sviluppo di questi strumenti perché effettivamente non tutti i prodotti finanziari permettono di recuperare le minus valenze quindi se io ho delle minus valenze pregresse e le voglio recuperare con delle plus valenze su altri strumenti le posso recuperare con lo strumento certificati che poi è un po' lo strumento quello più facile con cui recuperare le minus quindi se ho delle minus in scadenza per esempio i certificati sono uno strumento che mi permettono di recuperare le minus c'è proprio un webinar dedicato a questo che abbiamo tenuto con Gabriele Delelli lo scorso anno nel caso a chi fosse interessato proprio al tema magari può rivedere inoltre una cosa da notare è che il certificato abbiamo detto diciamo abbiamo dato tantissime definizioni per il certificato quindi un insieme di opzioni uno strumento finanziario cartolarizzato derivato negoziato su un mercato regolamentato che ci permette di accedere a una serie di strategie ma in realtà molto più semplicemente il certificato è un contratto così come abbiamo detto le opzioni erano un contratto e così come tutti i derivati sono un contratto anche il certificato essendo un derivato è un contratto è un contratto in particolare tra l'investitore e l'emittente quindi diciamo se vogliamo la banca d'affari la casa prodotto ed è costituito da tre documenti diversi e li ho ordinati per diciamo importanza quindi il kid che vedete per ultimo è il meno importante quindi in realtà i due più importanti sono final terms quindi il documento delle condizioni definitive che è un unico documento per ogni certificato che viene messo sul mercato il base prospectus o prospetto di base che è uguale per tutti i prodotti di una determinata categoria quindi per esempio trovate un base prospectus per tutti i prodotti della tipologia tracker per tutti quelli della tipologia investment quindi capitale condizionatamente protetto per tutti quelli alleva quindi avete diciamo in genere tre o quattro documenti possono essere base prospectus dove andate a trovare tutte le informazioni per una determinata categoria di prodotto i final terms invece sono per il singolo quindi le condizioni definitive per il singolo strumento finanziario fondamentalmente vi basterebbero i final terms però chi vuole leggere il base prospectus in realtà ci sono delle informazioni in più rispetto al final terms delle piccole informazioni ma per chi effettivamente le vuole leggere sarebbe diciamo utile magari almeno una volta nella vita quando si inizia ad investire in più c'è il kid che è il documento delle informazioni chiave che è un documento diciamo corto e viene strutturato diversamente da ogni emittente quindi il kid e tra l'altro se ci fosse un errore nel kid che non è diciamo un qualcosa che non è coerente con i final terms fanno fede i final terms quindi mi raccomando diciamo leggiamoli i final terms magari apriamoli semplicemente giusto per vedere se il premio è giusto proprio due tre cose quindi proprio ricercando in alto a destra nel documento le cose di cui vogliamo essere certi cioè per esempio che c'è l'effetto memoria che il premio sia corretto che ci sia l'autocall da una certa data che la scadenza sia quella tutto il resto poi magari possiamo ovviare nel momento in cui conosciamo i prodotti però cerchiamo almeno le cose base nei final terms partiamo poi da dove vengono negoziati i certificati quindi qual è il luogo dove vengono negoziati i certificati i certificati possono essere negoziati in due luoghi in realtà se vogliamo da una parte OTC quindi over the counter e quindi direttamente con l'emittente questa è una cosa che noi non possiamo fare quindi ve la dico perché per darvi questa informazione ma non è che domani noi possiamo andare dall'emittente e dirgli vogliamo comprare direttamente da voi direttamente senza passare da una banca o broker di mezzo no questo è impossibile però effettivamente per chi è un cliente istituzionale e vuole effettivamente negoziare direttamente con l'emittente può farlo appunto OTC in questo caso le controparti istituzionali e professionali non vanno a comprare quello che compriamo noi ma si fanno costruire degli strumenti ad hoc quindi personalizzati sulla base delle loro esigenze faccio un esempio magari un fondo comune di investimento vuole andare a sostituire una posizione azionaria ed abbassare il rischio può farsi costruire magari un certificato che ha le stesse caratteristiche diciamo di partenza della sua posizione e anche sulla base della sua view e a quel punto andarlo a negoziare e comprarlo direttamente dall'emittente questa è una cosa che ovviamente noi non possiamo fare perché questi strumenti che negoziano diciamo le grosse istituzioni non sono disponibili agli investitori retail ovviamente qui il mercato è un po' diverso perché perché l'investimento minimo in genere è di entità molto rilevante quindi si tratta di milioni di euro i pricing ovviamente quindi i prezzi sono migliori rispetto a quelli dei mercati regolamentati dove vengono negoziati meno masse e quindi fondamentalmente diciamo quello è un mercato bello per chi lo vede dietro le quinte come me ma non è un mercato diciamo purtroppo accessibili a noi altri quindi mi dispiace ma è così dall'altro lato abbiamo il mercato regolamentato o appunto mtf in questo caso il mercato è accessibile a tutti gli investitori quindi l'istituzionale potrebbe comprarsi qualcosa sul mercato regolamentato così come potrebbero comprarselo tutti gli investitori retail qui l'investimento minimo è generalmente di entità ridotta quindi si parte da 100 euro per negoziare un singolo certificato 100 euro 1000 euro e i prodotti sono costruiti dagli emittenti quindi fondamentalmente l'emittente decide che cosa potrebbe piacere al mercato adesso vediamo anche diciamo proprio come funziona la nascita di un certificato e in Italia abbiamo tre diversi mercati su cui vengono negoziati i certificati il Serex e il Certix di Borsa Italiana il segmento IMTF e su Spectrum diciamo sugli ultimi due solo i Turbo Certificate quindi certificati e leva abbiamo due tipologie di mercato quindi abbiamo visto possiamo negoziarli o OTC o su mercati regolamentati quando andiamo diciamo su le tipologie di mercati accessibili a retail abbiamo due tipologie di mercato il primario e il secondario quindi tanti di voi vedranno magari sui giornali il mercato dei certificati sta crescendo a ritmi pazzeschi in genere si parla di mercato primario quindi di tutto quel mercato derivante dal cosiddetto collocamento ossia c'è una controparte che può essere per esempio intesa sella quindi un distributore quindi la vostra banca fondamentalmente che decide di distribuire un prodotto sul mercato primario quindi c'è una fase di collocamento una finestra magari di una o due settimane in cui viene diciamo in cui il private banker o il consulente va a casa del cliente e gli dice vuoi comprare questo certificato ti interessa questo certificato e il certificato ha un prezzo che rimane fermo per tutta la finestra di collocamento quindi rimane fermo a 100 euro o 1000 euro al suo valore nominale e l'investitore che poi è interessato a quel certificato e compra quel certificato compra quel certificato a 100 o 1000 euro quindi direttamente dal mercato primario al termine del periodo di collocamento il prodotto poi si inizierà a muovere quindi nel momento in cui sono state raccolte tutte le adesioni diciamo per il collocamento a quel punto il prodotto parte diciamo il prezzo inizia a muoversi sulla base dell'andamento del sottostante e se il prodotto viene quotato è facile da rivendere altrimenti è un po' più complesso rivendere un prodotto diciamo che è stato che è passato da un mercato primario e non è andato sul secondario però per la maggior parte delle emissioni tutto quello che è partito dal mercato primario viene poi quotato in genere in modalità bidonli quindi effettivamente dove l'emittente garantisce solo la rivendita quindi non garantisce dei nuovi acquisti da parte di altri investitori e permette così la rivendita quindi se per esempio noi abbiamo acquistato un qualcosa sul mercato primario quando poi viene quotato sul mercato secondario possiamo rivenderlo direttamente all'emittente generalmente il mercato primario però è molto più costoso del secondario quindi da un lato diciamo vengono creati dei prodotti che magari possono essere interessanti come dei capitali protetto quindi ci sono tanti capitali protetto per esempio di intesa creati proprio per la rete distributiva di intesa che possono essere interessanti anche proprio come struttura dall'altro rato però ovviamente bisogna remunerare tutto il passaggio del collocamento quindi bisogna remunerare tutti coloro che hanno lavorato per diciamo farvi arrivare a casa il prodotto e a casa il consulente che ve l'ha fatto sottoscrivere e quindi ovviamente diciamo sono prodotti un po' più costosi nel momento in cui termina il collocamento ovviamente il costo è completamente trasparente quindi nel momento in cui l'investitore diciamo firma il contratto c'è scritto anche quant'è il costo di collocamento quindi non è una cosa diciamo una marginalità che non viene dichiarata ovviamente è tutto ovviamente trasparente alla luce del sole però nel momento in cui finisce il collocamento questi costi vengono tolti dall'investimento quindi magari se il collocamento costa un 10% come ci sono stati in alcuni casi in passato magari anche dei collocamenti che costavano un 10% del costo significa che noi andiamo ad acquistare a 100% sul mercato primario in qualcosa che ha un valore di 90% quindi effettivamente non è proprio che stiamo facendo un affare questa è un po' l'idea mentre sul mercato secondario è un po' diverso perché il prodotto viene messo in cosiddetto direct listing cioè quotato direttamente senza passare dalla fase di collocamento quindi si taglia un po' la filiera e si va direttamente a mettere sul mercato dei prodotti ovviamente questi prodotti saranno meno scambiati perché come abbiamo detto prima effettivamente ognuno di noi ha dei gusti diversi non è detto che tutti vedano tutti i prodotti nel momento giusto in cui acquistare quindi sono dei prodotti che hanno diciamo degli scambi un po' più ridotti rispetto a quello del mercato primario ma sono adatti per il fai-da-te quindi per l'investitore che effettivamente è interessato a costruirsi un portafoglio da solo magari appunto non ha il consulente oppure un consulente diciamo che riesce a pescare i certificati migliori all'interno del mercato secondario e quindi in quel caso li compra direttamente non li compra più dalla sua banca come nel caso del collocamento quindi non è che li compra a casa e firma il contratto in questo caso deve comprarseli da solo attraverso una piattaforma che può essere Direkta Fineco Intesa Sella quindi una qualsiasi banca o broker che dà accesso al mercato Sedex o TLX nel caso dei certificati di investimento e ovviamente sul mercato secondario abbiamo sia certificati a leva che di investimento e qui vediamo appunto un po' le differenze perché mentre il Sedex e il Certix di Borsa Italiana sono diciamo i mercati su cui vengono quotati i certificati a leva e di investimento e sono accessibili da qualsiasi banca o broker nel caso dei certificati quotati su IMTF e Spectrum che sono entrambi della tipologia Turbo quindi vengono quotati lì solo Turbo Certificate nel caso di Spectrum c'è accesso al momento solo tramite conto IG nel caso di IMTF c'è accesso solo tramite alcune banche quindi ad esempio Fineco quindi in questo caso se non avete diciamo il conto di quella particolare banca non riuscite a negoziare quei particolari prodotti è un po' diciamo una una precisazione ma era doveroso farla partiamo da chi sono gli attori poi del mondo dei certificati io ho fatto due sempre anche qui una distinzione per farvi vedere anche l'altro mondo diciamo del tra virgolette dell'alta finanza no sul mercato regolamentato quindi sugli IMTF abbiamo diversi attori li vediamo proprio come come filiera se vogliamo del del business dei certificati abbiamo la banca d'affari che è la banca emittente il garante il market maker o specialista quindi ad esempio BNP Paribas la rete distributiva che può essere di mezzo tra rete distributiva e consulente finanziario come abbiamo visto nella fase di mercato primario quindi nel caso di BNP Paribas potremmo avere BNL come rete distributiva il consulente finanziario quindi il consulente di BNL e alla fine il risparmiatore ovviamente non è detto che ci sia la rete distributiva e il consulente finanziario in questo caso se per esempio comprate direttamente un prodotto in direct listing quindi sul mercato secondario comprate il prodotto di BNP Paribas senza aver bisogno della rete distributiva e del consulente finanziario e ve lo scegliete da soli e negoziate da soli con la vostra piattaforma nel mondo TC invece ci sono fondamentalmente tre attori principali c'è la banca d'affari come prima quindi la società da cui parte poi il prodotto nel mezzo c'è in genere una società di consulenza e strutturazione quindi delle boutique specializzate fondamentalmente quello che faccio io di lavoro e alla fine c'è l'investitore istituzionale che quindi sono quelle società finanziarie che operano con capitali elevati in modo sistematico e professionale ad esempio un asset manager quindi un fondo di investimento vediamo però nel dettaglio che cosa fanno i diversi attori come guadagnano e capiamo anche come funziona un po' il mondo dei certificati anche gli interessi che ci sono all'interno del mondo dei certificati quindi abbiamo detto abbiamo il primo attore di tutti senza di lui non ci sarebbe tutto questo mondo è la banca d'affari quindi la banca di investimento che fa da emittente in genere l'emittente è un veicolo della banca d'affari quindi facciamo un esempio BNP Paribas non cuoterà i prodotti con BNP Paribas diciamo la banca francese ma ha creato un veicolo BNP Paribas issuance BV che è un veicolo di emissione di diritto olandese che costruisce i prodotti e li mette poi a disposizione degli investitori perché si creano questi veicoli diciamo per diverse ragioni diciamo da un lato ragioni legali dall'altro ragioni fiscali fondamentalmente alla fine la banca per ottimizzare sceglie un paese che è un paese sempre MIFID compliant quindi che sia all'interno della regolamentazione MIFID per costruire i suoi prodotti quindi alcuni prodotti potrebbero partire appunto come in questo caso dall'Olanda altri potrebbero partire da Francoforte ma l'idea appunto diciamo che effettivamente l'emittente stesso non è la banca che poi vediamo come garante ma è una società veicolo diversa l'emittente guadagna dall'emissione del prodotto e non ha rischi perché perché effettivamente l'emittente copre ogni prodotto cioè compra le opzioni facciamo un esempio concreto l'emittente BNP Paribas domani emette un prodotto e lo mette sul mercato a 100 euro e diciamo il prodotto ha un valore quindi le componenti delle opzioni quindi compra tutte le opzioni le paga a 99 e vi vende un qualcosa che vale 100 e quindi lui si guadagna quell'euro quindi gli rimane diciamo in tasca un euro ha comprato le opzioni quindi fondamentalmente non ha rischio se non rischio controparte se vogliamo che appunto la controparte poi non gli ritieni indietro i soldi ma tendenzialmente questo non succede quasi mai perché poi le controparti sono diversificate e a voi vende un qualcos'altro quindi fondamentalmente guadagna tra virgolette a rischio zero e soprattutto non è disallineata non è che se l'investitore perde allora B&P Paribas guadagna e lo stesso vale diciamo per qualsiasi emittente quindi questo è fondamentale da capire perché questo è quello che succede sul mercato non regolamentato in generale sul mercato non regolamentato se io perdo la casa prodotto vince e quindi questo è da capire perché effettivamente non voglia loro non vogliono che noi perdiamo e questa è già una base di partenza diciamo abbastanza importante c'è poi il garante che in generale quindi la maggior parte dei casi è la casa madre quindi è la banca d'affari quella che ha il rating migliore perché perché in genere non è detto che l'emittente abbia rating quindi l'emittente stesso in realtà non è garante non è quello che poi diciamo ci dà il rischio di credito ma l'emittente stesso in genere tendenzialmente non ha rating cioè è proprio una società a veicolo in alcuni casi lo potrebbe avere quindi poi dipende un po' dalle società in alcuni casi il garante quindi per esempio su BNP Paribas la BNP Paribas banca francese che ha tutti e tre i rating effettivamente è quella che è la garante dei nostri prodotti ci sono però dei casi in cui l'emittente inserisce un garante diverso dalla banca principale quindi per esempio la BNP Paribas potrebbe mettere una branch di BNP Paribas che ha magari rating o che non ce l'ha e quindi in quel caso dovremmo essere noi a vedere che effettivamente il garante è quello giusto perché per esempio se andiamo a comprare dei prodotti a capitale protetto potremmo trovare che effettivamente il garante non è diciamo la banca d'affari quindi la casa madre ma magari è una branch più piccola che ha un rating più basso e quindi lì effettivamente potremmo avere qualche problema dal garante ovviamente come abbiamo detto dipende il rischio emittente del certificato quindi se per esempio il garante non ha rating lì è difficile stimare qual è il rischio emittente e quindi diciamo lì potrebbe crearsi magari qualche problema ci sono pochissimi emittenti che non hanno rating però questa è una cosa da considerare in più la banca d'affari fa quindi da emittente da garante e da market maker o specialist quindi fornisce la liquidità del prodotto non è detto che lo specialist sia la banca d'affari quindi effettivamente il market maker potrebbe essere anche uno specialista che viene assunto quindi che viene pagato dalla banca d'affari per dare liquidità al prodotto perché magari la banca d'affari non vuole fare il market maker il market maker è quello che guadagna da lo spread quindi dalla differenza tra bid e ask cosa molto importante perché come abbiamo visto l'emittente può guadagnare appunto vendendoci un qualcosa che vale meno a un prezzo più alto quindi diciamo se vogliamo il costo di emissione e guadagna dallo spread quindi queste sono le due fonti di guadagno dell'emittente quindi come abbiamo detto nel mondo dei certificati non c'è disallineamento tra emittente e investitore quindi l'emittente non va a guadagnare se noi perdiamo perché ogni posizione è perfettamente coperta dall'altro lato l'emittente ovviamente spera che noi guadagniamo perché? perché da un lato sviluppa il suo business quindi se ci fosse un emittente che emette solo strumenti che vanno a buon fine e che ci fanno guadagnare effettivamente sarebbe un emittente talmente bravo che tutti compreremmo solo con quei prodotti di quell'emittente e ovviamente l'emittente guadagnerebbe di più guadagnerebbe ovviamente più spread più costi di emissione e guadagnerebbe anche una market share quindi una guadagna di mercato più alta quindi l'emittente è diciamo tende a volere che l'investitore guadagni dall'altro lato un investitore che guadagna tende a rinvestire un investitore che perde tende a non rinvestire quindi l'emittente è fortemente allineato a farci guadagnare dall'altro lato però l'emittente emette anche quello che piace al mercato questo è un po' il disallineamento che secondo me si è creato negli ultimi anni tra emittenti e investitori perché effettivamente magari gli investitori compravano delle strutture molto aggressive e quindi gli emittenti hanno iniziato a fare tante emissioni tanto aggressive piuttosto che prediligere quelle a rischio un po' più basso e quindi questo magari ha creato un po' un disallineamento infatti nel mondo dei certificati si nota proprio una sorta di cluster di emissioni su particolari sottostanti su particolari strutture proprio perché effettivamente magari ci sono tanti scambi quindi l'emittente è contento di vendere quei prodotti e continua a diciamo ad emetterli una cosa che diciamo in realtà mi è stata fatta questa domanda diverse volte ma diciamo non viene mai approfondita perché effettivamente quando si lavora in banca è un po' difficile capire chi fa cosa no? perché ognuno ha un job title quindi una descrizione di quello che fa enorme in inglese e non si capisce bene che cosa faccia ciascuna persona nella banca quindi ho fatto una sorta di piccolo grafichino per far capire chi fa cosa nelle diverse banche soprattutto quali sono le diverse persone o team comunque che agiscono nel mondo dei certificati e le ho ordinate un po' per importanza no? abbiamo in primis ovviamente il team di strutturazione che sono coloro che comprano le opzioni quindi la strutturazione strutturazione e trading dipende poi da chi fa cosa però in teoria la strutturazione è quella che pensa il prodotto e dice dobbiamo comprare queste opzioni il trading le compra il risk management controlla che non stanno comprando delle opzioni su cui magari c'è un'esposizione diciamo contraria e quindi la posizione si offsetta e quindi non è necessario magari coprirla quindi in questi tre sono quelli che poi costruiscono insieme la posizione del certificato abbiamo poi il sales institutional che è fondamentalmente la persona che si occupa di strutturare i prodotti per la clientela istituzionale quindi quei prodotti che abbiamo visto che passano OTC quindi che vengono negoziati direttamente con la banca in quel caso vengono costruiti quindi diciamo pensati o comunque vengono realizzati insieme a un sales che è appunto un venditore per la clientela istituzionale c'è poi il market making che è colui che fornisce liquidità e in genere non è detto che il market making diciamo sia seduto nello stesso ufficio dell'area commerciale o dell'area strutturazione quindi è possibile che il market maker sia per esempio nella diciamo nella casa madre e l'area commerciale invece sia in un altro paese così come magari la strutturazione è ancora in un altro paese non nella casa madre quindi è possibile che queste persone in realtà siano in uffici collocati in modo geograficamente strano in diversi posti e che comunichino tra loro diciamo per creare poi il prodotto che trovate sul mercato e in ultimo l'area commerciale che è quella che voi trovate come public distribution sales retail marketing fondamentalmente questo che cosa fa l'area commerciale l'area commerciale da un lato potrebbe contribuire alla creazione del prodotto e quindi parlare con la strutturazione e dirgli vedo che il mercato vuole una struttura di questo tipo quindi creiamola e la creano insieme alla strutturazione oppure potrebbe occuparsi semplicemente della vendita quindi si occupa per esempio del marketing con le mail che vi manda gli articoli e quindi fa diciamo la parte commerciale perché è importante l'emittente perché come abbiamo visto tutti i certificati non hanno la separazione patrimoniale degli etf quindi diciamo sono all'interno del book della banca quindi hanno un rischio emittente se l'emittente in particolar modo come abbiamo detto il garante dovesse fallire è come se avessimo un'obbligazione senior unsecured quindi senza garanzia io qui vi ho inserito diciamo un link per valutare il il rating creditizio e lo vediamo subito se si apre il link perché all'interno di formazione link utili trovate proprio il credit rating degli emittenti diciamo lo aggiorniamo periodicamente quindi è quello corretto in modo tale che magari appunto se avete perché ovviamente il credit rating quando andate poi sul sito dell'emittente in alcuni casi viene riportato in altri no e soprattutto magari se lo cercate su google non è detto che prendete quello giusto da valutare per i certificati quindi fondamentalmente qui trovate una tabella dove ci sono poi tutti i rating di tutti i diversi emittenti del mercato italiano ovviamente come abbiamo detto prima attenzione agli emittenti che hanno rating basso senza rating diciamo sono da scartare quando possibile o comunque in generale limitare all'interno di un portafoglio perché ovviamente è vero che quello è un rischio diciamo che tendenzialmente non si realizza perché gli emittenti tendenzialmente non falliscono ma non si sa mai perché solo quando fallirà il primo emittente poi ce ne accorgeremo del fischio emittente comunque il rischio più estremo all'interno di un portafoglio perché diciamo prima rischio valuta rischio mercato eccetera se il mercato mi perde il 10 15 il 20 diciamo che il rischio emittente è paragonabile all'esempio di prima wirecard cioè lì meno 100% perché l'azione è stata dell'istate è andata a zero l'unico altro caso in cui io posso perdere il 100% è se fallisce l'emittente quindi prendiamo dei due casi estremi e un meno 100% su un prodotto ovviamente ci metto tanto tempo a recuperarlo quindi fare particolarmente attenzione perché mentre ripeto al mercato se perdo il 10 può essere un rischio comunque contenuto e ho la possibilità di recuperarlo un meno 100% e ovviamente ci metto molto di più assolutamente e Gualtiero dice ma quindi l'emittente non ha rischi e mentre un certificato si copre dai rischi wow diventiamo emittenti allora sì in realtà effettivamente l'emittente non ha rischio a livello diciamo finanziario ovviamente ha un rischio di business quindi ha un rischio controparte nel momento in cui si va a coprire ha un rischio di business perché ha dei costi fissi come un diciamo un qualsiasi emittente ha dei costi di struttura anche banalmente le persone che paga la diciamo la licenza finanziaria quindi poi effettivamente ha dei costi che deve recuperare quindi come qualsiasi business è un business che ha un rischio dato appunto chiamato rischio di business ovviamente se diventi emittente farcelo sapere Gualtiero speriamo il meglio quindi come valutare l'emittente da un lato ovviamente il rischio emittente è garante si valuta con il rating dall'altro come abbiamo detto la qualità del market making che si valuta come presenza sul mercato quindi quanto più tempo il market maker è disponibile sul mercato quanta più quantità ha sui diversi prodotti e gli spread che applica ma soprattutto il market making secondo me va valutato sui prodotti in bidonli quindi quei prodotti che non hanno il market maker in acquisto ma ce l'hanno solo in vendita e tutte le volte che c'è uno shock di mercato quindi questi diciamo questi ultimi mesi secondo me si prestano molto a valutare gli emittenti perché gli shock di mercato ci sono quindi effettivamente si vede subito chi prezza e chi non prezza ecco ovviamente si può valutare anche sulla varietà della gamma prodotti perché magari ci sono emittenti che sono attivi solo su alcuni sottostanti su alcune strutture e quindi magari non è possibile operare con loro su tutti i sottostanti sulla disponibilità nel rispondere in caso di problematiche legate ai prodotti sulla capacità di gestire situazioni di stress questa è fondamentale magari anche situazioni in passato che hanno creato delle problematiche con per esempio c'era stato un problema di una banca che aveva riportato diciamo un errore nel kid non nei final terms e per esempio ha pagato tutti gli investitori quindi ci sono magari degli esempi favorevoli o sfavorevoli dei diversi emittenti che ci possono far prediligere un emittente piuttosto di un altro più o meno a parità di rendimento ma anche la presenza sul mercato di riferimento io questa diciamo è una cosa che magari non ci si pensa tanto però se l'emittente è tanto presente sul mercato costruisce una reputation sul mercato e quindi effettivamente se un emittente ha quattro prodotti sul mercato e c'è un qualsiasi problema magari non lo risolve ecco mentre se un emittente ha tanti prodotti chi è molto presente investe tanto sul mercato di riferimento tendenzialmente avendo costruito una reputation su quel mercato e non volendo magari buttare tutto all'aria tenderà a risolvere il problema quindi effettivamente secondo me la presenza sul mercato di riferimento è una cosa da considerare bene positivamente per valutare un emittente può essere un parametro per valutare ma secondo me non tanto però potrebbe esserlo la presenza di accordi zero fee specialmente per chi magari ha dei portafogli piccoli perché gli emittenti hanno degli accordi con alcuni broker e permettono di azzerrare le fee di negoziazione quindi questo potrebbe essere magari per chi ha diciamo pochissima disponibilità da mettere in portafoglio per mettere in portafoglio dei certificati questo potrebbe essere un altro parametro vediamo poi degli altri attori del mondo dei certificati in particolare un attore che è un po' dimenticato in realtà è il mercato di quotazione perché in realtà ogni mercato ha il suo regolamento quindi ha le sue regole del gioco al quale devono sottostare gli investitori ma anche gli emittenti i market maker le banche i garanti eccetera per esempio nel regolamento SEDEX di Borsa Italiana così come che poi si applica fondamentalmente uno a uno anche al CertX in questo caso sono contenute tutte le regole che per esempio devono rispettare i market maker in termini di spread di presenza sul mercato e se non li rispettano Borsa Italiana chiama il market maker e gli dice perché non stai quotando quindi poi effettivamente il regolamento di Borsa di Borsa che magari è una cosa che l'investitore non legge potrebbe essere interessante da leggere proprio ora che ci sono diversi mercati che quindi avranno diversi regolamenti quindi avere diciamo più tutele come investitore potrebbe un attimino aiutarci il mercato ovviamente come abbiamo detto svolge delle funzioni di sorveglianza del rispetto delle regole contenute nel regolamento può applicare anche delle multe così come escludere poi un emittente dalla negoziazione del mercato per esempio se diciamo nel continuo non rispetta le regole e a Borsa così come agli altri gestori del mercato è poi possibile anche mandare dei reclami nel caso in cui si assistesse a delle violazioni quindi se per esempio magari si assiste a una violazione si parla con l'emittente quindi si scrive una mail all'emittente l'emittente non ci risponde diciamo in modo che ci piace possiamo chiedere direttamente a Borsa o comunque al gestore del mercato quindi questa è una cosa assolutamente interessante oltre a Borsa ovviamente possiamo chiedere anche a Consob quindi in caso di forti violazioni si possono scrivere delle mail a Consob è un po' più lenta magari rispetto all'ACF che vediamo tra poco però effettivamente essendo l'autorità finanziaria italiana che regola sia gli emittenti italiani e quindi sugli emittenti italiani diciamo sono quelli più regolati da Consob proprio perché diciamo basati in Italia ma anche tutti diciamo tutti i prodotti che poi vengono emessi e resi disponibili ai risparmiatori italiani hanno poi tutta la sorveglianza Consob quindi in questo caso anche Consob può essere contattata la cosa più facile in realtà abbiamo visto funziona anche per altre controverse sui certificati è nel caso ci fossero appunto controversie la CF cioè l'arbitro per le controverse finanziarie perché è fondamentalmente un ente che può essere contattato gratuitamente da risparmiatore solo in alcuni casi che sono ben determinati sul loro sito ed è un modo semplice e soprattutto gratuito che risolve le controversie senza dover poi mettere un avvocato magari a rivolgersi al giudice ovviamente sono casi estremissimi quindi direi che di tutte le persone che diciamo ci seguono ci hanno mai seguito io non ho conosciuto uno che ha fatto ricorso alla CF però c'è proprio un articolo su questo nel nei link utili se lo volete leggere diciamo ritardi nei pagamenti delle cedole forse diritto rimborso magari può essere interessante però in generale è proprio una cosa che non succede quasi mai perché poi gli emittenti tendono a risolvere i diversi problemi ecco come c'è un certificato questa è una cosa diciamo interessante perché effettivamente il certificato può nascere da diversi attori riprendo un attimo la slide degli attori diciamo di chi lavora in banca quindi può partire dall'area commerciale quindi magari l'area commerciale vede che c'è un bisogno parla con lo strutturatore e lo strutturatore poi inizia a strutturare i prodotti e poi diciamo con il team di emissione quindi team fondamentalmente legale che rivede tutta la documentazione si fa il processo poi per l'application per l'emissione sul mercato regolamentato e poi va a disposizione del cliente finale altrimenti diciamo nella maggior parte dei casi può essere proprio la strutturazione a ideare il prodotto sulla base della fase di mercato quindi a scegliere la struttura e scegliere i sottostanti ci sono diversi tipi di emittenti quindi c'è l'emittente che fa delle grosse emissioni tutte uguali quindi struttura identica dove cambia solo il sottostante oppure c'è l'emittente che fa tante piccole emissioni tutte diverse quindi che non hanno magari un un neanche una caratteristica in comune quindi ci troveremo di fronte a degli emittenti completamente diversi anche per come nasce e diciamo poi si costruisce il prodotto una diciamo una cosa interessante da sapere è che effettivamente diciamo quando poi si pensa il prodotto non è detto che il prodotto vada al mercato subito quindi per esempio sui tracker certificate magari hanno un tempo di costruzione un po' più lungo rispetto a un classico cash collect quindi poi diciamo magari tante idee vanno a un mercato in un momento di mercato non buono no? perché poi effettivamente magari l'emittente pensa a un qualcosa inizia a parlarne con la strutturazione così dopo un mese ha cambiato completamente il mercato e arrivano sul mercato dei prodotti che non sono più adatti diciamo a quella fase di mercato e lì starà a noi selezionare e capire se effettivamente l'emittente ha lanciato un qualcosa interessante che vale la pena seguire e acquistare oppure no quindi io questo lo dico perché poi effettivamente diciamo a livello teorico tutti vogliono lanciare i migliori prodotti del mondo a livello poi pratico non è detto che arrivino sul mercato i migliori prodotti nel momento in cui servono poi pensiamo anche solamente negli ultimi due mesi con lo scopo della guerra e quindi l'inalzamento della volatilità ovviamente un prodotto emesso prima con la volatilità più bassa magari dava un rendimento molto inferiore a un certificato emesso semplicemente una settimana dopo o dieci giorni dopo dall'altra parte magari se i certificati emessi subito dopo lo scopio vicino ai minimi di mercato hanno visto subito i mercati rimbalzare quindi magari uscivano al mercato già a 103 104 105 e non erano più acquistabili perché ovviamente il rendimento l'avano già fatto e questo a distanza di due tre giorni l'uno dall'altro quindi trovo prima un prodotto che rende molto meno perché la volatilità è bassa dall'altra parte è già inacquistabile perché il mercato è già salito quindi è proprio attuale questa problematica verissimo poi andiamo a che cos'è un sottostante e ti lascio la parola Alessandro perché una volta che appunto i vari soggetti hanno pensato hanno capito la necessità ovviamente hanno andato a capire a scegliere il sottostante su cui andare poi a costruire il certificato il sottostante appunto è l'asset finanziario dal quale deriva il valore del certificato abbiamo sempre detto che il certificato si muove in base a come si muove i sottostanti in questo caso il sottostante appunto può essere di varie tipologie può essere una singola azione oppure può essere un basket di azioni può essere un indice di mercato proprietario in questo caso cosa cambia un indice di mercato è l'S&P 500 quindi un cash non leggo sull'S&P 500 un indice proprietario può essere invece magari un indice che replica l'andamento delle azioni che sono nel mondo dell'acqua per esempio o del gaming o dell'idrogeno quindi all'interno di questo indice ci sarà chi struttura l'indice che va mensilmente semestralmente insomma con intervalli di tempo periodici a ribilanciare l'indice e a investire su un determinato settore di mercato oppure appunto può essere un'obbligazione un'etf una valuta una materia prima e così via quindi come vedete i certificati possono essere fatti praticamente su qualsiasi tipo di sottostante prendo la domanda di Gualtiero perché Gualtiero dice non ho ben capito il discorso quindi quando è bassa la volatilità i certificati costano meno allora fondamentalmente diciamo la volatilità diciamo i certificati sono vega negativi quindi la volatilità va contro se vogliamo il certificato diciamo è un po' un elemento se vogliamo negativo per chi ha acquistato positivo per chi vuole acquistare quindi se la volatilità è alta il diciamo il il prezzo dei certificati già emessi va a scendere quindi cresce la volatilità scende il prezzo i nuovi emessi hanno un rendimento più alto quindi perché dato che scende il prezzo quindi aumenta il rendimento sui vecchi aumenterà anche sui nuovi quindi era un po' questo il discorso che abbiamo fatto con Alessandro quindi nel momento in cui prima dello scoppio della guerra c'era poca volatilità quindi ipotizziamo che un certificato rendeva il 6% con poca volatilità scoppia la guerra c'è tanta volatilità lo stesso identico certificato di nuova emissione magari dà il 10% e quello vecchio è andato a costare 95 o 94 se sì magari appunto c'è un picco di volatilità viene emesso il certificato magari il certificato rendeva il 15% quindi 6 10 15% si abbassa la volatilità il giorno dopo il certificato sale sopra i 100 non so se è chiaro ma così secondo me il ragionamento va fatto proprio tra certificati già emessi e certificati in emissione perché su un certificato già emesso l'unica variabile è il prezzo perché su un certificato già emesso il rendimento quello è il certificato è nato rende il 10% l'unica cosa che può variare è il prezzo quindi se la volatilità si alza il prezzo scende viceversa se la volatilità si abbassa il prezzo sale e quindi appunto in un contesto di volatilità come è stata la guerra esplode la volatilità i prezzi dei certificati già a mercato tendenzialmente è sceso nel momento in cui la volatilità rientra sui livelli normali diciamo il prezzo ovviamente torna dove era prima dall'altra parte invece su un prodotto che vado a emettere la variabile è il rendimento perché l'emissione è sempre fatta a 100 quindi lì non ho variabile di prezzo ma ho variabile di rendimento e anche qui il discorso è lo stesso volatilità è un aumento oddio è il contrario in realtà volatilità è un aumento rendimento e quindi cedola in aumento volatilità in discesa cedola più bassa quindi sono proprio due momenti diversi sul certificato già emesso ragione sul prezzo sul certificato dell'emissione va a impattarmi sul rendimento perfetto e Massimo chiede bisogna guardare quindi la volatilità del mercato o del sottostante giusto diciamo la volatilità è quella del sottostante quindi la volatilità apprezzata è quella del sottostante poi ci può essere tra virgolette una volatilità sistemica che influenza quella del sottostante però la volatilità quella che tu vedi prezzata nei certificati è quella del sottostante o dei sottostanti e se per esempio abbiamo un basket worst off la volatilità che pesa di più è la volatilità del worst off quindi del più volatile e se magari è pure il peggiore del basket diciamo è proprio quella che pesa su tutto il basket però questa poi è una cosa che magari vediamo nel corso avanzato però tendenzialmente volatilità del sottostante ci sono diciamo che ci sono delle situazioni la guerra il covid eccetera che riguardano tutto il mercato quindi lì è un momento in cui la volatilità è salita su tutti indistintamente poi dal settore specifico ci sono altri contesti in cui magari il mercato mantiene il suo andamento perché c'è un singolo evento che riguarda un singolo settore non so la crisi dei semiconduttori una notizia specifica che fa magari perdere tanto guadagnare tanto solo le aziende del settore dei semiconduttori però in quel caso ovviamente si muove magari solo quel tipo di settore e non tutto il mercato ecco il sottostante è sempre specificato nella documentazione è sempre importante verificare l'effettivo sottostante di un certificato perché diciamo ci sono diverse casistiche che abbiamo riportato ad esempio la possibilità che al posto di un singolo titolo ci sia un indice legato e era il caso ad esempio dei dividend adjust dove è una tipologia particolare di certificati dove il sottostante non è intesa ma è un indice che replica intesa al netto del dividendo stimato quindi qua lo diciamo poi lo approfondiremo magari nei prossimi appuntamenti oppure un altro caso può essere la valuta come parlavamo prima appunto del rischio rendimento capire se c'è l'opzione che protegge dal cambio valutario oppure no oppure il mercato di riferimento citavamo Stellantis che è quotato in diverse borse e quindi che prezzo dovevo prendere prendo il prezzo di Milano prendo il prezzo di New York prendo il prezzo di Amsterdam quindi anche quello poi non ci sono mai grosse differenze di prezzo però magari se mi gioco il rimborso può essere che ci sia qualche centesimo di differenza tra le quotazioni in diversi mercati e di conseguenza ovviamente questo va a impattare sull'andamento del prodotto quindi è sempre fondamentale leggere la documentazione per identificare il giusto sottostante sì questo diciamo che è molto importante perché è una cosa su cui spesso magari sbagliano investitori quella di non controllare il sottostante cioè come dicevo prima minimo apriamo i final terms e vediamo se c'è l'effetto memoria chi è il sottostante cioè ma proprio le cose base ecco cioè proprio le caratteristiche più basse di tutti però almeno quelle controlliamole perché magari ecco credevamo che fosse scritto diciamo costruito su un sottostante ma magari il certificato su tutt'altro specialmente magari per chi è un po' diciamo le prime armi legge l'articolo e dice ah perfetto questo prodotto è su Stellantis e poi magari era su Ford perché nell'articolo c'era un errore o nella brochure stessa che è diciamo una brochure marketing magari anche all'interno del sito dell'emittente trovate un errore se l'errore non è nel final terms o non è nel prospetto di base o non è sul kid quello non ha valenza quell'errore non ha valenza legale quindi se voi comprate una cosa perché nella brochure c'era scritto Stellantis e poi c'è Ford o poi c'è Tesla cioè non è che nessuno vi salva da quel punto quindi quello che succede succede diciamo è colpa vostra quindi almeno la documentazione legale almeno sul sottostante ecco infine poi non è possibile fare certificati su qualsiasi tipo di sottostante quindi deve essere elegible e quindi essere diciamo abilitato cioè sia per le regole del mercato di quotazione che per l'emittente che per il market maker quindi deve essere un titolo che questi tre soggetti autorizzano e uno dei requisiti più importanti è la liquidità del sottostante quindi deve esserci la possibilità di trovare tutte le opzioni che mi permettono di costruire poi il certificato esempio molto semplice non troverete mai un certificato su un'azione quotata Lime per esempio quindi una small cap non ha un paniere di opzioni su cui si può investire e di conseguenza non si può costruire un certificato su quel tipo di azioni infatti se poi andiamo a vedere tutto il range di sottostanti tendenzialmente sono le aziende che sono più scambiate e che hanno più liquidità in tutti i diversi mercati questo è un po' il discorso relativamente al sottostante e per chiudere una domanda che ci faceva prima Massimo era un altro rischio relativo ai dividendi straordinari che è sempre una cosa relativa al sottostante vero dall'altra parte però è difficile che un andamento un certificato mi venga sconvolto dall'erogazione di dividendo straordinario perché tutto quello che riguarda ad esempio processi di fusione processi di acquisizione in quel caso poi o di aumenti di capitale ad esempio il prezzo di strike e il prezzo della barriera vengono rettificati in base al nuovo valore quindi quelli sono casi che magari dove si ho delle grosse variazioni di prezzo dove però il mio certificato non viene non viene impattato diverso al caso di dividendi straordinari dove si effettivamente lì il prezzo lo strike rimane quello quindi non va non viene modificato però non sono non sono importi che vanno a a compromettere diciamo l'andamento della mia strategia sul prodotto e Massimo giustamente dice vedi magari azimut ma una qualsiasi stock in prossimità della scadenza di un certificato e questo secondo me è un fattore importante perché poi potremmo essere così sfortunati da comprare un certificato dove c'è un evento straordinario vicino alla scadenza vicino magari a un possibile autocall quindi in quel caso una cosa che si può fare è sostituire il certificato cioè uscire da quello vecchio e andare su un certificato magari diciamo potrebbe essere più vecchio più nuovo ma switchare il certificato proprio perché effettivamente ci possono essere queste problematiche perché in generale su tutti gli eventi straordinari c'è una rettifica ma poi quello che succede in quella determinata data non è detto diciamo che è completamente assorbito dalla rettifica quindi questo secondo me è una cosa importante proprio perché se magari in quella data hai la scadenza e sei vicino barriera lì stai rischiando tutto quindi effettivamente se ne trovano tantissimi in realtà di prodotti così cioè nella storia ce ne sono tanti quindi magari state attenti magari sugli eventi straordinari se avete qualcosa in portafoglio guardate almeno le date quindi a quel punto riprendiamo in mano in final terms e vediamo più o meno dove sono le date rilevanti e tra l'altro infatti dice Massimo esatto ce l'avevo in portafoglio da parecchi mesi quindi è una cosa importante questa perché non ci si pensa mai e specialmente diciamo quando poi si fanno magari i corsi sui certificati si dice appunto è tutto tranquillo quindi se ci succede qualcosa di straordinario effettivamente è tutto già considerato però c'è sempre quella variabile in più sto a scadenza e vicino barriera quella non diciamo non ci salva niente purtroppo vediamo vediamo le principali tipologie di certificati perché oggi abbiamo parlato di una serie di cose quindi di come si costruisce un certificato di quali sono gli attori ma poi effettivamente come sono i certificati abbiamo due mappe che possiamo considerare in quanto investitori italiani ed europei quindi in primis la mappa EUSIPA che è fondamentalmente l'associazione europea dei certificati a cui partecipano anche le diverse associazioni dei diversi paesi dei certificati nonché gli emittenti europei la mappa EUSIPA che cosa fa va a prendere tutti i certificati emessi diciamo nella storia e va a categorizzarli in alcune categorie principali perché il problema dei certificati qual è e questa la metterei proprio come il problema vero dei certificati è che ogni emittente dato che come abbiamo detto gli emittenti vogliono vendere il certificato che cosa ha dato da dei nomi commerciali quindi ha una struttura gli darà un nome che potrebbe essere uguale al nome che danno tutti gli altri o diverso anche se la struttura è la stessa quindi se anche il certificato fa la stessa identica cosa di altri certificati che si chiamano in un altro modo l'emittente potrebbe dargli un nome commerciale diverso questo che cosa significa che si sono creati negli anni tantissimi nomi diversi che indicano poi effettivamente la stessa cosa e quindi questo creava un po' ovviamente una barriera nel mondo dei certificati perché chi non era proprio dentro diceva ok ma io non capisco come funziona questa cosa è una cosa nuova e magari funzionava esattamente come il prodotto vecchio scusami oltre a una stessa cosa chiamata con tanti nomi diversi c'è anche il caso contrario un nome che poi per ogni emittente ha prodotti diversi quindi si è che esistono poi le matrici di incastro di questa cosa è vero questo è infatti questo lo riterrei un problema ancora peggiore secondo me e quindi fondamentalmente che cosa succede che noi ci troviamo tantissimi prodotti tantissimi nomi diversi e non capiamo bene come inserirli e quindi Eusipa che cosa ha fatto ha creato questa mappa in cui ha diviso tra i certificati di investimento e i prodotti a leva e nei certificati di investimento ha diviso per i certificati a capitale protetto che hanno quindi la protezione del capitale che cosa significa significa che se per esempio io ho un certificato a capitale protetto su Intesa San Paolo con scadenza 5 anni significa che tra 5 anni sicuramente a meno che l'emittente non fallisca mi viene restituita una percentuale del valore nominale se il capitale protetto è al 100% il 100% del valore nominale se il capitale protetto è all'80% l'80% del valore nominale quindi io oggi investo 100 in un capitale protetto sicuramente so che mi viene restituita o 100 o 80 o 50 a seconda della percentuale di protezione del capitale oltre a questo in genere il capitale protetto poi ha un qualcosa in più quindi potrebbe o pagare un premio o darmi una performance in genere ha sempre qualcosa in più però l'idea appunto è che questi sono tendenzialmente i prodotti più protettivi che avete proprio perché indipendentemente da quello che ci fa intesa comunque a meno che non salti l'emittente comunque io ricevo almeno quei soldi che sono già determinati nel nostro contratto che è appunto in final terms e poi EOSIPA non chiama come vedremo poi diciamo la mappa CEPI che è quella dell'associazione italiana dei certificati di investimento non li chiama capitale condizionatamente protetto ma li chiama yield enhancement quindi la seconda categoria sono i certificati yield enhancement che cosa significa yield è rendimento enhancement è ottimizzazione quindi sono quei certificati che ottimizzano il rendimento quindi che ci danno un po' più di rischio rispetto al capitale protetto ma ci danno un po' più di rendimento quindi che ci hanno un connubio rischio rendimento migliore mettiamola così quindi questi certificati a CEPI quindi associazione italiana dei certificati di investimento li chiama capitale condizionatamente protetto che cosa significa che prima noi sapevamo che per certo prendevamo dei soldi ipotizziamo appunto il 100% del nostro investimento quindi del valore nominale nel capitale condizionatamente protetto che cosa ci dice il prodotto ci dice se intesa ha per esempio una barriera di protezione del 50% quindi un certificato con barriera di protezione 50% significa che se intesa non scende di più del 50% noi riprendiamo i 100 e quindi è come se fosse un capitale protetto se invece scende più del 50% noi è come se avessimo l'azione quindi iniziamo a perdere quindi se per esempio intesa fa meno 60 noi ci troviamo un 40% di valore nominale quindi investiamo 100 se intesa non scende più del 50 bene riprendiamo i 100 se intesa scende di più del 50 ad esempio fa meno 60 noi riprendiamo 40 investiamo 100 riprendiamo 40 oppure investiamo 100 riprendiamo 100 però qual è l'idea è che qui effettivamente invece magari di darci un rendimento minimo come il capitale protetto qui i rendimenti possono essere interessanti magari del 5 del 10 del 15 del 20 del 30 anche del 50% quindi il certificato a capitale condizionatamente protetto dà un valore di rendimento molto più elevato rispetto al capitale protetto e poi ci sono i certificati di partecipazione cioè quelli principalmente sono i tracker certificate e quelli che linearmente uno a uno vanno a replicare il nostro sottostante oppure possono essere diciamo i discount quindi diciamo ci sono delle altre tipologie ma fondamentalmente poi dedicheremo proprio una puntata per ogni tipologia di prodotto però l'idea è appunto che sono degli strumenti lineari quindi vinco quindi guadagno se il sottostante sale perdo e quindi diciamo vado a registrare una perdita se il sottostante scende quindi non ho protezione del capitale e poi ci sono le credit link notes che sono un po' più complesse che sono proprio legati diciamo a un evento di credito quindi se non si verifica un evento di credito ho il sono un po' più simili a lo il denancement o i capitali condizionatamente protetto quindi se non si verifica una certa cosa io prendo i premi e prendo il capitale a scadenza e questi poi li approfondiamo proprio in in una puntata dedicata e poi nei prodotti a leva mette i certificati a leva fissa i prodotti con knockout e i prodotti senza knockout vediamo proprio la mappa dove avete il il link all'interno delle slide questa è la mappa EOSIPA e come vedete c'è la mappa europea e di tutti i diversi paesi che aderiscono a diciamo l'associazione europea quindi tra cui ovviamente l'Italia e qua vedete anche poi dei grafici se vi volete vedere magari poi anche con calma delle diverse tipologie quindi come abbiamo detto i capitale protetto il denancement che appunto in Italia vengono chiamati prodotti a capitale condizionatamente protetto questa mappa vi può essere utile se per esempio diciamo un giorno investirete in un altro mercato quindi se vi trasferite per esempio in Svezia e non sapete come si chiamano i condizionatamente protetti lo trovate direttamente da questa mappa una cosa diciamo da sapere che magari non è utile a tutti ma magari qualcuno sì e mentre sulla mappa CEPI come abbiamo detto abbiamo a differenza di USIPA lo il denancement diventa il capitale condizionatamente protetto abbiamo quindi capitale protetto capitale condizionatamente protetto e capitale non protetto e in più le credit link note nel caso degli strumenti a leva invece non dividono quindi la mappa CEPI non divide come leva fissa con knockout e senza knockout ma ci dà tutti i prodotti e vediamo anche la mappa a CEPI che si scarica direttamente da qui quindi fondamentalmente qui la mappa CEPI vi può essere utile per una cosa perché perché oltre diciamo a riportare le diverse tipologie di strumenti ci riporta anche i nomi commerciali è aggiornata periodicamente quindi non è detto che abbia diciamo tutti gli ultimi aggiornamenti però fondamentalmente se noi vogliamo sapere che cos'è un accelerator sappiamo che è un airbag se vogliamo sapere che cos'è un recovery top bonus sappiamo che fa parte della tipologia del bonus cap quindi come vedete effettivamente diciamo possiamo chiamare i prodotti in tantissimi modi sono 100 tipologie per esempio esatto quindi fondamentalmente allora diciamo che ovviamente per esempio ognuno ha delle diverse caratteristiche lock-in per esempio è una categoria low strike è un'altra categoria però fanno parte tutti della tipologia cash collect quindi magari il giorno che aprite una pagina e trovate lock-in certificate dite non so che cos'è vado sulla mappa cepi lo trovo qui quindi so che diciamo si è di leontech so che è un cash collect che poi avrà qualche caratteristica in più rispetto al cash collect oppure no non è detto però fondamentalmente so già che mi trovo diciamo in questa categoria quindi fondamentalmente io qua è un po' una mappa di orientamento per capire che cosa ho davanti ecco nel caso ovviamente non lo conoscessi prima vi faccio degli esempi proprio di strumenti quindi come abbiamo visto il capitale protetto condizionatamente protetto e non protetto e poi i credit link note li vedremo separatamente perché sono diciamo una piccola nicchia di mercato e sono un po' più adatti magari per gli investitori con un profilo diciamo un po' più istituzionale però possono essere molto interessanti magari anche in futuro se poi questo mercato si svilupperà anche su investitori diciamo al dettaglio partiamo con il capitale protetto reale che è costruito sull'indice Eurostoxx50 in questo caso è un capitale protetto con emittente Barclays quindi il rischio emittente quindi il rischio che il capitale protetto che ha una protezione del capitale del cento per cento in euro e attenzione perché l'anticapitale protetto ce l'hanno in dollari e ho fatto molta fatica a trovare un capitale protetto cento per cento in euro sotto la pari era quasi impossibile però l'ho trovato quindi fondamentalmente qui che cos'è? è un capitale protetto con emittente Barclays se Barclays ci fallisce a quel punto siamo diciamo creditori chirografari della banca se non fallisce sicuramente prendo cento euro per ogni certificato che ho acquistato perché il valore nominale è cento e la protezione del capitale è del cento per cento oggi l'acquisto a 99,2 euro so che mi paga un premio fisso annuo dello 0,5 e un premio condizionato solo a scadenza dello 0,5 che cosa significa? significa praticamente io oggi ipotizziamo che acquisto il certificato e spendo 99,20 euro ogni anno quindi nelle date del 3 aprile 2023 del 2 aprile 2024 del 7 aprile 2025 il certificato mi va a staccare un premio di 0,5 quindi fondamentalmente per ogni certificato che ho acquistato mi paga questi 50 centesimi a scadenza 7 aprile 2025 quindi tra tre anni mi rimborsa a meno che non è fallita Barclays 100 euro 0,5 euro che era il premio fisso più un qualcos'altro che è un premio condizionato quindi come nei capitali condizionatamente protetto la protezione era condizionata qui il bonus è condizionato quindi se l'euro stocks 50 è maggiore o pari al valore di strike quindi diciamo al valore iniziale che aveva l'euro stocks 50 quando è stato diciamo messo a mercato il prodotto allora il certificato mi paga un ulteriore 0,5 quindi mi paga un euro per ogni certificato che ho comprato altrimenti non mi va a pagare premio quindi questo è un certificato che per esempio diciamo ha una scadenza corta non se ne trovano tantissimi in genere andiamo diciamo al 2030 però questo è un certificato che io diciamo vado ad acquistare sapendo che minimo a meno che appunto barques non fallisce minimo mi restituisce 100 quindi io già per esempio oggi lo compro sotto la pari già so che ho un minimo di rimborso cosa diversa sicuramente li prendo i 100 che ho investito in ogni caso prenderò 0,5 0,5 0,5 in ogni caso l'unica condizione appunto è quello 0,5 aggiuntivo che prenderò se l'euro stock è sopra al livello iniziale però diciamo che ho quasi tutto certo l'unica variabile appunto è quello 0,5 aggiuntivo esattamente quindi diciamo questo per esempio è un investimento che possiamo paragonare a un'obbligazione diciamo proprio a livello di rischio proprio perché abbiamo il premio fisso un piccolo premio variabile a scadenza tra tre anni e un emittente di alto livello quindi diciamo con rating elevato altro caso invece è un cash collect dove abbiamo tre sottostanti BPM intesa unicredit bancari che acquisto a 100,8 euro quindi sopra la pari e che mi paga un 16 e 68 anno con barriera premio e di protezione del capitale al 60% quindi in questo caso è un capitale condizionatamente protetto quindi se i sottostanti tutti i sottostanti non scendono di più del 40% riprendo 100 euro quindi facciamo un esempio concreto oggi io acquisto il certificato e pago 100,8 euro quindi io già stavo pagando 80 centesimi sopra il valore nominale ogni mese vado a vedere BPM intesa unicredit e vedo se sono scesi di più del 40% rispetto alla foto iniziale al valore di strike se sono scesi non prendo niente quindi se sono scesi sto tranquilla che non riceverò niente se non sono scesi il certificato mi paga 1,39 euro al mese al mese quindi abbiamo visto prima uno 0,50 anno qui 1,39 al mese quindi ovviamente capiamo che il rischio è molto più alto grazie a una cosa che si chiama effetto memoria che poi vedremo anche nei prossimi appuntamenti se io oggi non prendo il premio perché per esempio BPM è scesa di più del 40% del valore di strike in quel caso il premio viene conservato in memoria quindi ogni mese rivado a rifare la foto basta che effettivamente in uno dei mesi successivi tutte e tre le azioni BPM intese a unicredit sono sopra il livello di barriera quindi il livello di barriera premio appunto quindi non sono scese più del 40% rispetto allo strike quindi magari è risalita leggermente BPM in questo caso e mi viene pagato il premio del periodo e tutti i premi che non mi sono stati pagati quindi se per esempio per un anno non mi sono stati pagati dei premi che ammontavano 16,68 euro quando poi effettivamente si verificano le condizioni per pagare il premio mi vengono ripagati 16,68 euro più il premio di 1,39 euro quindi questa è una condizione diciamo interessante quella dell'effetto memoria inoltre i certificati a capitale condizionatamente protetto in genere hanno il cosiddetto autocall che cosa significa che hanno la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale che è una cosa che deve essere vista come una cosa buona perché perché fondamentalmente da settembre se BPM intesa e unicredit non sono scese quindi o sono salite o sono rimasti dai valori iniziali in quel caso il certificato mi può scadere e rimborsare 101,39 euro quindi in quel caso rispetto diciamo al caso precedente io potrei prendere il capitale prima della scadenza e in automatico cioè io ho il certificato mi sono salite un po' BPM intesa unicredit è perfetto mi viene rimborsato il certificato mi ridanno 100 più 1,39 euro quindi questo è ovviamente un caso buono a scadenza quindi se non si è verificato il rimborso anticipato nelle diverse date come abbiamo detto mensilmente quindi noi da settembre in poi da settembre 2022 fino alla scadenza che è nel 2024 ogni mese facciamo la foto e ogni mese se BPM intesa non i credit sono scese effettivamente e non sono scese sotto la barriera ci viene pagato il premio ma se sono diciamo salite in quel caso abbiamo sempre la possibilità di autocall quindi il prodotto poi si stoppa e ci va in autocall a scadenza che è il 4 marzo 2024 se il sottostante si trova sopra la barriera capitale il certificato ci rimborsa il valore nominale 100 euro più il premio quindi 101,39 euro altrimenti va uno a uno con la performance del worst off quindi se per esempio BPM ha perso il 70% noi riceveremo 30 euro ok quindi questo deve essere diciamo chiaro che qui abbiamo un rischio che una delle tre azioni effettivamente vada giù parecchio se va giù parecchio questo non è il prodotto da comprare quindi e questo ci fa capire immediatamente a chi sono dati diversi prodotti quindi nel prodotto precedente se io ho diciamo parecchia liquidità e non la voglio mettere a rischio quindi ho diciamo in un conto tanta liquidità non so dove metterla le obbligazioni non mi rendono e mi continuano a scendere perché anche quella è la questione magari appunto da qualche altra parte sto perdendo se voglio metterli direttamente in un conto il conto non è remunerato a questo punto posso dire ok mi vado a prendere un prodotto come un capitale protetto che comunque mi paga il mio premio che comunque me lo vado a comprare sotto la pari e scade tra poco relativamente poco quindi nel 2025 e ho diciamo ho ho fatto diciamo una scelta efficiente per la liquidità che avevo se invece io sono magari ho una view rialzista su queste azioni su BPM intesa un i credit invece di comprarmi le azioni posso dire mi vado a comprare un certificato che mi dà un 16,68 l'anno che comunque ha un buon rendimento e che nel caso in cui le azioni scendono io non ci vado a perdere perché finché non mi scendono di più del 40% il certificato mi va a pagare il premio e a scadenza mi rimborsa quindi se effettivamente ho una view in cui le azioni non salgono del più 200% perché in quel caso mi conveniva comprare le azioni ma neanche scendono del più 100% allora in quel caso il capitale condizionatamente protetto è appunto un prodotto il denancement e quindi che mi ottimizza il rendimento ultimo esempio il tracker certificate quindi per esempio qua abbiamo un tracker certificate che si acquista 77 e 70 che è un certificato costruito su una strategia di investimento in certificati il cosiddetto certificato di certificati che replica appunto la performance del sottostante che è un indice costruito su un basket di certificati al netto ovviamente la replica non è uno a uno al netto della commissione di gestione di performance quindi questo è un certificato che per esempio ci permette di acquistare una strategia che non avremmo potuto acquistare in altro modo perché magari se vogliamo investire 200 euro sui certificati non possiamo diversificare il portafoglio l'unico modo è comprare un tracker che ha dentro più certificati che viene gestito attivamente riprendo due domande che ci sono la prima di Michele che ci dice ovviamente più rendimento uguale più rischio relativamente al discorso capitale protetto non protetto se Michele questo però è una sciama che non riguarda solo i certificati ma riguarda tutto il mondo degli investimenti tendenzialmente in qualsiasi tipologia più rendimento viene erogato perché garantito è una parola che difficilmente si può mettere a fianco a rendimento più rendimento c'è più rischio c'è questo vale sempre non esiste il rendimento elevato e garantito e se te lo propongono è una truffa staci staci lontano tendenzialmente appunto questo sempre negli investimenti è così un'azione può rendere molto di più di un'obbligazione sì ma il rischio ovviamente è molto più elevato nel mondo dei certificati tra protetto e non protetto è la stessa è la stessa cosa invece Paolo ci chiede relativamente a un come è possibile come è possibile che un certificato protetto al 90% sull'euro stock select dividend oggi quoti 8,34 qui la risposta è data da tre fattori il primo è il rating dell'emittente che è il rating dell'emittente con il rating più basso tra quelli che quotano sul mercato che è triple di meno la seconda risposta è il tempo perché la scadenza è il 2027 quindi è molto molto lontano di conseguenza sui capitali protetto tendenzialmente più è lontano la scadenza del prodotto e più il prezzo viene penalizzato la terza è il sottostante che oggi quota ancora ho visto il 12% sotto lo strike di conseguenza quindi sono sotto al mio capitale di protezione quanto mi rimborserebbe oggi mi rimborserebbe il 90% però se ci aggiungo la tua variabile che dicevo prima rating basso dell'emittente e scadenza lontanissima ovviamente il prezzo viene un po' penalizzato quindi questo ha la brevissima analisi che ho fatto e la risposta al motivo del prezzo così basso è un po' come se fosse uno zero coupon con la stessa scadenza di quell'emittente fondamentalmente più o meno di dovrebbe venire direi più o meno lo stesso rendimento operando altrimenti conviene vendere quello e comprare l'altro quindi questa è un po' l'idea effettivamente quello che si vede sui capitali protetto e questa cosa la trovate anche sul sito di Ufinance quindi se andate sul sito di Ufinance c'è un vi faccio vedere come arrivare perché forse è la cosa più semplice se andate qui allora nella nella slide qua trovate una dispensa che è la dispensa che ho scritto proprio all'occasione dell'evento Ufinance sulla resilienza cioè sulla capacità dei certificati di tenere il prezzo fondamentalmente quindi di farci perdere il meno possibile quindi fondamentalmente di essere fermi su un certo livello di prezzo i capitale protetto specialmente quelli che hanno magari dove il sottostante è sceso parecchio dove la scadenza è lunga e dove l'emittente non è il massimo quindi questo era l'esempio concreto perdono parecchio di prezzo in questo momento diciamo con volatilità buona quindi in questo momento acquistare magari un capitale protetto di un emittente buono su un indice che può recuperare può essere qualcosa di una buona idea perché in questo momento diciamo quelli sono i prodotti che tendenzialmente scenderanno di meno se ci fosse un ulteriore shock di volatilità ma sono anche quelli che tenderanno a salire un po' più velocemente quindi fondamentalmente possono essere interessanti ovviamente anche questo potrebbe essere un prodotto interessante sempre da comparare magari se c'è appunto uno zero coupon bond dell'emittente più o meno con scadenza simile capire se il rendimento è coerente ecco e trovate qui la dispensa e vi ricordo ovviamente che il 14 aprile alle 14.30 abbiamo proprio un webinar dedicato ai certificati magari proprio per chi non è alle primissime armi questo potrebbe essere utile ma in generale magari anche sentirsi un po' di contenuti avanzati può essere sempre uno spunto in più e il 22 aprile a Rimini c'è l'evento speciale di YouFinance è un evento in presenza quindi per chi magari fosse in zona o volesse venire a Rimini a farsi il weekend perché poi è venerdì può essere un evento utile ovviamente io partecipo su un panel diciamo con altri relatori ma ci sono poi tantissime altre conferenze potete proprio scoprire il programma e iscrivervi all'evento il prossimo appuntamento è il 27 aprile quindi diciamo ci vediamo dopo Pasqua e quindi vi auguro una buona Pasqua ne approfitto per qualsiasi domanda quindi se effettivamente oggi magari abbiamo dato una serie di informazioni da digerire poi vi venissero delle domande come sempre vi ricordo che abbiamo il gruppo Facebook Free Finance Certificati d'ETF dove potete fare le domande che oggi non avete fatto o magari anche di approfondimento su dei temi che volete richiedere che magari non riuscite a comprendere bene sui certificati e magari le approfondiamo in modo un po' più semplice rispetto a diciamo i corsi standard e quindi questo vi può aiutare come sempre poi abbiamo il sito web Telegram canale YouTube eccetera io ringrazio ovviamente Alessandro che mi accompagna in questo percorso anche in questo percorso grazie mille Ale grazie grazie a te Francesca è sempre un piacere e ringrazio tutti voi che avete partecipato fino a tarda ora e buona serata a tutti buona serata arrivederci